È quello che ha Cristiano, penso che fa delle cose ogni tanto che è solo proprio sua e possiamo dire che è uno dei più belli gol della storia del calcio. Può darsi che non è più bello che il mio. Non so se è più bello della storia, però ha fatto un gol straordinario e direi che in questo momento, non in questo momento, diciamo da un paio d'anni credo che Cristiano Ronaldo sia il miglior centravanti che c'è senza togliere niente all'altro. Grazie a tutti.